La cultura del provvisorio spinge i giovani a non sposarsi, ma il matrimonio resta il capolavoro della società. È uno dei passaggi della Catechesi di Papa Francesco all'udienza generale. Dai tempi delle nozze di cana sono cambiate tante cose, le persone, soprattutto i giovani, si sposano sempre meno, aumenta il numero delle separazioni e diminuisce quello dei figli, ma questo sacramento resta di fondamentale importanza. Il seme cristiano della radicale uguaglianza tra i coniugi, ha detto il pontefice, invitando tutti a chiedersi onestamente perché il matrimonio è in crisi, deve oggi portare nuovi frutti. La testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva attraverso la via della reciprocità, della complementarietà, perché la disparità è un puro scandalo. Le difficoltà non sono solo di carattere economico, sebbene queste siano davvero serie. Molte ritengono che il cambiamento avvenuto in questi ultimi decenni sia stato messo in moto dall'emancipazione della donna, ma nemmeno questo argomento è valido. Ma questo è anche un'ingiuria, no, non è vero. È una forma di maschilismo che sempre vuole dominare la donna. Facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo, quando Dio ha detto ma perché hai mangiato la frutta? E lei me l'ha dato e la colpa è della donna. Povera donna, dobbiamo difendere le donne. Grazie a tutti. Grazie a tutti.